Salve a tutti, sono Guidog e sono qui per mostrarvi una nuova creazione fatta sul mondo delle creazioni di Minecraft. Ciò che vado a presentarvi oggi è una costruzione di notebook, più precisamente la riproduzione usando il suono del pianoforte, della canzone Payphone, dei Maroon 5, Feet, Wiz Khalifa. Buon ascolto e spero vi piaccia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.